Prendo il pet e l'heroism, scusami E' dura di più Nooo vabbè Vabbè tante volte eh Per quanto, sembra tutto inutile adesso, perchè adesso è una fase facile e poi... E poi invece diventa impossibile, insostenibile Ah ma Max hai cambiato spec Si Si perchè ogni volta che coso il boss, mi curo Ho usato il verbo universale cosare Si Ogni volta che uso il kill command, scusami Senti Max parla inesperanto Ma il bello è che c'ho una sigaretta in bocca che mi sta facendo appazzire Dove stavo andando? Non lo so, pensavo andassi te ma Eh, ho sbagliato infatti, scusami rance Four, three, two, one A saldere sicuri Le c'ai m'ammazzata come si sto presendo Dime se sto posizionato male però Ale Non hai preso un danno finora dire di no Ce l'ho già spiegato In realtà prendi danni solo quando Mick sbaglia A fare il ping pong Si ma al primissimo try che sono morto Lì che Mick aveva sbagliato a fare il ping pong Ancora non aveva capito la tattica Del avanti indietro No perchè io a questa cosa data Anche non è che l'ho capita molto Cioè è una E' una cosa che non Che che ignoro totalmente No in realtà Qua dovrebbe scappare da quelle pozze Il problema è che qua non posso scappare Quindi uso le pozze per saltare da una pozza all'altra E tornare in su un pozzo Se riesco Perchè se me le mette troppo ravvicinate Se comunque il DPS è quello Secondo me non Cioè Vedi adesso si Cioè si vede Il DPS che facciamo E si vede che non ce la facciamo Stai dicendo Stai dicendo Hai visto un altro fight Eh Perché ce l'abbiamo fatta Sei ottimista cazzo Fammi capire il DPS No Beh certo Con più DPS Ce l'avremmo fatto Io più di questo Non riesco a fare Proprio Cioè Anche perché E' un paletto questo Quindi non è che sto sbagliando cose Tu puoi sinistra Oh che cazzo è questa Ancora ho la pilvinchia Stai dicendo 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 Mi in cosa ti metto? 1 4 3 2 1 Voi qui è un'assima, voi qui è un' 4 3 2 1 1 3 2 1 1, 2, 1, 4, 3, 2, 1 Ho chiuso lì, uè Sì, sì T'ho troppo lungo Ho chiuso massi, spostati 4, 3, 2, 1,8 4, 3, 2, 1,8 Ressalo, ressalo, ressalo Ok, Massi, spostati, spostati. Ancora? No, 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 io sono rientrato. Oh, ci tiriamo i cd per dopo? Sì. Dopo questo, no, i cd o no? Sì, dopo questo. Tiro io, tiro eh. Ok. Qua ci allontaniamo e poi portiamo con la pozza. E poi tutto quello che abbiamo, quando Max tira iro. Morto il pet. Cazzo. Andiamo, 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 andiamo. Ok, Massi, eh. Guarda che mi importa da te. Occhio. Sto finendo il mana. Non lo finire, non lo finire. Non puoi finirlo. Non puoi finirlo. Non puoi finire il mana. Eh dai. Che cazzo era? Ah, ma ha colpito in mischia. No, 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 ha finito il mana. Dai, dai. Vaffanculo, vaffanculo. Come son morto male. Son morto, son morto. Ah, posso usare il bonus roll però? Un attimo. Mm-mm. Su ligata...